Aeroporto di Comiso, convocato per il prossimo 20 settembre, è un tavolo tecnico in prefettura all'ordine ancora una volta, la convenzione con l'Enab. Ragusa, ieri incontro tra Crogetto e il Partito Democratico, tanto rumore per nulla, dal vertice non è emersa infatti alcuna novità. Comiso, primo giorno di scuolo oggi per gli studenti, suono della campanella anche per i ragazzi del Verga. Trasporto, buone notizie per studenti vittorisi e comisani che studiano a Modica, Trenitalia mette a disposizione una corsa al posto dell'Ast. Ragusa, prove tecniche in vista delle lezioni amministrative, iniziano a circolare i primi nomi per il prossimo sindaco della città. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le informazioni di Free News, seconda edizione per quest'oggi. Ancora aeroporto di Comiso in primo piano. È stato convocato per il prossimo 20 settembre un tavolo tecnico. La decisione è stata presa questa mattina dopo un confronto tra il prefetto e il comitato ristretto. Intanto sfuma l'ipotesi di dirottare gli aerei da Fontana Rossa al Magliocco. Piuttosto si è preferito attrezzare Sigonella in vista dei lavori sulla pista dello scalo Etneo. Vediamo. Non c'è alcuna speranza per l'aeroporto di Comiso. A partire dal 5 novembre, quando lo scalo catenese chiuderà per i lavori alla pista, gli aerei saranno dirottati a Sigonella, base militare, che per l'occasione sarà attrezzata al traffico civile. Questa è la soluzione che si profila con il Magliocco, che così ancora una volta rimarrebbe chiuso fino a data da destinarsi. Intanto il presidente dell'Enac Vitorrigio ha fatto chiarezza rispetto alle presenti dichiarazioni rilasciate da lui ed ha auspicato che la Convenzione per la fornitura dei servizi di assistenza al volo per l'aeroporto di Comiso venga quanto prima definita. Riggio, in una nota, si augura che i due enti vigilanti, ovvero il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quello dell'Economia, diano un parere positivo sulla Convenzione in modo da rendere operativo lo scalo, sottolineando che il ritardo nell'apertura dipende dall'assetto di aeroporto comunale deciso a suo tempo con una interpretazione dell'accordo di programma del novembre 2001, originato dall'intesa tra Stato e Regione siciliana. Sul fronte a proteste e mobilitazioni Gianni Cernigliaro, esponente vittorese del partito dei siciliani, ha sospeso il suo terzo sciopero della fame. Cernigliaro insieme ad Angelo Giacchi da due giorni protestava davanti alla prefettura di Ragusa in attesa di una data certa per la firma della Convenzione per i servizi di assistenza al volo. Ma nonostante non ci sia stata alcuna buona nuova, i due esponenti dell'ex MPA, adesso partito dei siciliani, hanno deciso di fermarsi. E adesso la politica è arrivata finalmente il giorno tanto atteso dal Partito Democratico di Ragusa. Ieri Rosario Crocetta ha incontrato il circolo cittadino. Peccato che da questo incontro non siano emerse particolari novità. Insomma, tanto rumore per nulla. Di Pasquale è fuori dal listino bloccato che sostiene il candidato alla presidenza della regione siciliana Rosario Crocetta e nessun componente del partito sarà inserito nella lista Crocetta presidente. Nulla è cambiato dopo l'incontro di ieri tra il circolo cittadino del PD di Ragusa e lo stesso Crocetta. Una giornata intensa, quella dell'ex sindaco di Gela, in visita ieri nel capoluogo. Dopo l'incontro con i precari della scuola e alcuni simpatizzanti, Crocetta si è recato alla sede di Via Natalelli per chiarire una volta per tutte come stanno le cose. Ad accoglierlo un Peppe Calabrese teso come una fune e carico come un fucile. Alla segreteria del partito non è piaciuta la candidatura di Di Pasquale nella lista a sostegno del presidente e su questo Calabrese e i suoi volevano chiarimenti. Nelle scorse settimane il gruppo vicino al segretario aveva addirittura considerato la possibilità di non votare a sostegno del proprio candidato, ma dopo ieri quest'idea è stata ritirata. La scelta di Crocetta ha fatto vivere settimane difficili al partito cittadino e certamente continuerà ad avere strascichi anche nelle prossime. Il PD ha infatti mostrato con la massima evidenza fratture antiche che finora solo in rare occasioni erano emerse. Chiaro è che il partito scricchiola sotto il nome di Calabrese. Il segretario non piace a molti e in queste settimane questo è stato palese. Da chi, come il consigliere Barrera, si è detto da sempre pronto a sostenere Crocetta, senza se e senza ma, a chi ha proposto la candidatura di Calabrese alla competizione, ufficialmente per valutarne il peso politico, ma per la verità per decretarne la fine definitiva. L'incontro di ieri non ha regalato alcun colpo di scena, tutto è andato come doveva andare, Crocetta non ha cambiato idea e il PD ha abbassato la cresta. Secondo un copione per molti stabilito da tempo, che succederà adesso non si sa. Il prossimo appuntamento è per lunedì, quando si riunirà la segreteria provinciale che scioglierà ogni dubbio sui candidati nella lista ufficiale del PD. Certo è che Ragusa avrà il suo candidato forte, dunque uno, tra di Giacomo e Ammatuna, più probabile quest'ultimo, deve abbandonare la scena. La scelta spetterà al segretario Zago, nei confronti del quale, ha commentato Calabrese, Ponzio Pilato e nessuno. Come si dice, tanto rumore per nulla. E sempre a proposito di regionali, se il PD è stato impegnato in queste settimane in affari per così dire di famiglia, gli altri partiti dalla sinistra non sono rimasti con le mani in mano. Sentiamo. Sergio Guastella, candidato alla regione siciliana. È forse il colpo di scena che si svelerà nelle prossime ore, anche se l'interessato smentisce categoricamente. La notizia potrebbe emergere già stasera. Alle 21 ci sarà un incontro tra Selle, Movimento Città, con Orizzonte Città Futura e lista donne. L'incontro è stato confermato da uomini interni a Sinistra Ecologia e Libertà, il cui coordinamento provinciale si riunirà prima nella sede ragusana del partito. La candidatura di Guastella non è naturalmente confermata, ma il suo nome è circolato in queste ore con sempre maggiore insistenza. Quello dell'avvocato, uscito perdente alle ultime amministrative del capoluogo, andrebbe ad occupare un posto nella cinquina di nomi della lista composta da Selle, Federazione della Sinistra e Verdi, più qualche movimento civico. Una candidatura andrebbe per l'appunto ad uno dei movimenti civici, da qui si è pensato a Guastella. L'avvocato dal canto suo non ha dato la propria disponibilità alla candidatura, ma c'è tempo per cambiare idea. E ancora politica, anche nel PD ragusano, in vista delle primarie per scegliere il candidato premier, è nata un'area che sosterrà il candidato rottamatore Matteo Renzi. Questa mattina c'è stata la conferenza di presentazione del comitato, che vede all'interno molti giovani. Vediamo. Partito Democratico e Bleio, stai attento, arrivano i rottamatori. In vista delle primarie all'interno del partito per scegliere il candidato premier per le prossime elezioni nazionali di aprile, anche a Ragusa è nato un comitato che sostiene il rottamatore Matteo Renzi. Il sindaco di Firenze, come è noto da parecchi mesi oramai, ha aperto una battaglia tutto interna al PD per rinnovare la classe dirigente e chiedere ai big di fare un passo indietro. Celebre la sua affermazione, cambia il nome del partito, ma le facce restano sempre le stesse. E' come dagli torto, inventarli dal PC si è passati al PDS, ai DS e ora al PD. Ma i dirigenti sono sempre gli stessi, Massimo D'Alema su tutti. Dunque anche in provincia di Ragusa è arrivata la mentata di era nuova, come hanno spiegato i promotori del comitato Salvo Livuzzo e Biagio Taranto, Marco Di Falco e Raffaele Iacono. La rottamazione è la parola chiave dell'idea, del pensiero di Matteo Renzi. Noi l'abbiamo sposata in pieno. Per rottamazione intendiamo non buttare dalla finestra chi in questi anni ha lavorato per il partito e per il Paese. Bensì si chiede alla classe dirigente, che finora è stata in prima linea, di magari fare un passo indietro e dare possibilità e spazio a giovani, a persone, a linfa nuova, a sangue nuovo, che sicuramente faranno bene per il Paese e per il partito stesso. C'è bisogno di novità, c'è bisogno di entusiasmo e i giovani che appoggiano Matteo Renzi sicuramente ne hanno abbastanza. Come evidenziato Salvo Livuzzo, all'interno del comitato ci sono molti giovani e molte persone che si sono riavvicinate alla politica. Appena uscito il comunicato stampa di annuncio di questa conferenza stampa parecchi amici e simpatizzanti hanno pensato bene di contattarci chiedendo di essere tenuti debitamente informati sulle attività di questo comitato. Cambiamo argomento all'avvio oggi in Sicilia e quindi anche in provincia di Ragusa, il nuovo anno scolastico. Questa mattina con le nostre telecamere ci siamo legati nella sede centrale dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga. Vediamo. Primo suono della campanella per la maggior parte degli studenti della provincia di Ragusa oggi. Qualcuno è iniziato infatti con qualche giorno di anticipo per via dell'autonomia scolastica. Questa mattina all'Istituto Comprensivo Verga di Comiso c'è stato il saluto di benvenuto per i ragazzi di prima media da parte della dirigente Caterina Giudice e dei professori di musica che hanno suonato qualche brano per alledare i ragazzi e i loro genitori. Subito dopo c'è stata la comunicazione della composizione delle prime classi. Cinque in tutto, due ad indirizzo musicale e tre a tempo potenziato a classi aperte. Oggi è un giorno fantastico ed emozionante, un giorno veramente importante per tutti noi, noi operatori della scuola, ma essenzialmente per i ragazzi che arrivano in questo istituto. molti provengono dalla scuola elementare Montserrato, quindi già conoscono le nostre abitudini, conoscono le nostre offerte. Ce ne sono tanti nuovi, ma noi siamo sempre pronti a dare a ciascuno il loro. È stato molto emozionante perché i genitori hanno trasmesso questa emozione. I genitori sono molto vicini ai loro figli e molto vicini a noi, quindi speriamo di accontentarli, ma essenzialmente la cosa più importante è speriamo di dare a loro quello che hanno di bisogno e di farli progredire sia umanamente sia culturalmente. L'Istituto Comprensivo Verga, che comprende anche la scuola elementare, conta all'incirca 700 alunni. Dunque nessun problema si è registrato dal punto di vista della regenza, a differenza di altre scuole della città. Come ogni anno gli studenti avranno la possibilità di partecipare a molti progetti promossi dalla scuola, come quelli sulla sicurezza, sulla legalità, sulle tradizioni e la conoscenza dei monumenti della propria città e naturalmente i concerti dell'orchestra. Non resta che augurare un bel imbocca al lupo ai ragazzi per il nuovo anno scolastico. Restiamo in tema di scuola. Buone notizie per gli studenti che da Comiso e Vittore devono recarsi a Modica, all'alberghiero e all'Igeo musicale. Trinitalia infatti ha predisposto delle corse per sopperire al taglio delle linee dell'aste. Sentiamo. Buone notizie per gli studenti pendolari di Comiso e Vittore che devono recarsi a Modica dopo la decisione dell'azienda siciliana Trasporti di sopprimere il collegamento Vittoria-Modica causando gravi disagi, è arrivata la disponibilità di Trinitalia a predisporre la tratta per i ragazzi. Infatti Trinitalia ha messo a disposizione una carrozza di 68 posti che partirà alle 6.58 da Vittore per raggiungere Modica alle 8.04. Non solo, ma in attesa dell'assegnazione di una seconda vettura sulla stessa tratta, Trinitalia mette a disposizione anche un pullman. A Modica infine grazie al dirigente scolastico che è interessato a prefettura e provincia ci sarà un bus e navetta che porterà gli studenti dalla stazione ferroviaria a scuola. Insomma lavoro sinergico, ha commentato il primo cittadino di Vittoria Giuseppe Nicosia, è intenso per far sì che già dal primo giorno di scuola siano azzerati i disagi causati agli studenti dalla decisione dell'aste. Dunque resta così garantito il diritto allo studio per i circa 200 studenti pendolari di Vittoria e Comiso. Queste va ancora in tema, un rapido giro in alcuni istituti superiori della provincia per augurare agli studenti un buon inizio di anno scolastico. Al suono della campanella il commissario straordinario della provincia di Ragusa Giovanni Scarso si è presentato al liceo scientifico di Vittoria Cannizzaro per porgere il benvenuto agli alunni delle prime classi che iniziano il nuovo percorso di studi. Dopo Vittoria si è trasferita Ragusa al liceo scientifico Fermi insieme al prefetto di Ragusa Giovanna Cagliostro che ha voluto presenziare al battesimo del nuovanno scolastico. Scarso ha poi chiuso la visita agli istituti scolastici di Modica con il saluto agli studenti del liceo musicale Giovanni Verga e dell'istituto alberghiero Principi Grimaldi. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra poco.